Ragazzi ho visto un gioco che potrebbe essere molto interessante, gratuito tra l'altro, gratuito, io direi di provarlo, ok? Questo gioco ha un menu, iniziamo molto bene, campagna new game Ok, dopugna caso, interessante, va bene, sembra un po' promettente come gioco, eh? Ok, vediamo com'è, dai, vedi già nessuno, chi è questo? Un civile! Un civile! Morite tutti, strozi! Vai, vai, fantastico, un zionocida No, la devi di, però se non ricarichi è un problema Fammi un attimo di provare, per favore Ah, posso sparare anche da verso le pareti Anche da verso la porta, buono No, no, tu luce devi stare buona No, porca puttana di stare ferma Quindi fai così? Easy allora, vabbè, vai da verso la porta Molto, molto figa come cosa, non me lo sarei aspettato Ok, MP5 Oh, ora si ragiona, ora si ragiona, bene Perfetto, non so qual è la mia vita Non so dov'è, mi sa che proprio non c'è la coltita della vita, mi sa che tu un po' muori Muori, vai grande Vai, muori Ok, ah, questo è il medikit, vedi? Ok Quindi la vita la puoi trovare così per strada come le munizioni Ah, attraverso il vetro, buono No, devi morire Ok, perfetto Quanta gente Muori, fantastico È scioglio È scioglio No Aiuto No Corri via Ok Sono resistito, bene Sono scappato Perfetto Basta fare i zii e stare nascosti Bene Ok, ora giù Sono raggiunto il prossimo luogo Bene, ora vai avanti Guardatevi sulla porta Perfetto, bene Morite male No, devi stare, devi morire, devi morire Ok, perfetto Allora, sta musica devo un po' rompere i coglioni però, eh Bene, quindi dovevo ucciderli tutti Skip Level complete New weapon unlocked Fantastico, buon per te Così si ragiona Perfetto Morite Morite Ah Ok No Mi ha ammazzato Dai, vabbè, comunque No, ma se io vado a pugni Loro non mi sentono Quindi top Perfetto Andiamo a pugni, bene Allora, gente Dai, vabbè, arrivo io con la pistolina Pam Ma dai Ok Bene Bene Bene, no No, altri strozi Ok, morto, bene Grande Ok, go upstairs E go upstairs Va bene, devo andare a curarmi però Qua c'è un medikit Vai, vai Perfetto Curato Bene Allora Vediamo come possiamo gestircela in questo No Dai Vediamo come possiamo gestircela in questo momento Uno stronzo lì Facciamo andare di qua Allora No, ho sbagliato Dai, vabbè Vieni qua Zù, vieni qua Vieni qua No No Perfetto Uccisi, bene Perfetto Go to the target room Bene Ok Ma comunque è interessante Perché ci vuole anche strategia Muori, bene Ok, allora vediamo Possiamo Uccidiamo il civile Vai Il civile Ammazziamo il civile Così Giusto per il gusto di ammazzare Vabbè, ci sono morti Fantastico Ah, pugni Dai, vado a pugni Sì, ma dai Ma la pistolina di merda Loro sono 5.000 Come li ammazzo Ok Ok Prendi la mia P5 Devi morire Devi morire No, ma perché Fammi Fammi uccidere Morite male Poi ammazziamo il civile Perché lui non No, il civile Dove stai andando Scappa Bene, mori Fantastico Il civile Deve morire quel civile Oddio Ma non l'ho nemmeno Ah, perché posso muovere La video La camera Giusto Sì, vabbè Ma cosa sono Cioè, nemmeno mi hanno visto Subito in testa Mi guardano No, vai, è morto Ma sottato Dai Prima mori il civile Perché deve morire Non può rimanere in vita Ok, vabbè Poi tocca loro Ero io Stronzo No, vabbè Ma qua Non ce ne sono Pulce Sì, vabbè Sì, vabbè Da, vabbè Mi serve il medikit Tu però devi morire Perfetto Bene Ma quindi loro ti perdono di vista Non sono notato automaticamente dove sei Buono, allora Hai fatto bene a questo punto di vista No Mori Bene Ok Ce la lasciamo cavanza Dai Aspetta, eh Perfetto Abbiamo ammazzato anche l'ultimo civile Benissimo Bene, grande No, tu devi morire civile Ok Anche te è buono E andiamo di sopra Perfetto Vai, si continua Tu si crede di morire Anche te civile dove pensi di andare, eh La tua vita è inutile Basta respirare aria È solo mia Qua stanno facendo un rito satanico Vabbè, ok Ah, era il mio obiettivo Andiamo di mitraglione Spacchiamo tutto No Bene, ammazzati tutti Bene Mi sono fatto male da solo Fantastico Ok Vai, si torna in macchina Destroy all chemical content Ah, devo distruggere tutte quelle cose esplosive Va bene Vai, venite qua Vabbè, la congrega Laggiù Che mi aspetta Ma cosa pensate di fare Pensate di uccidermi No Vai cagare Ok, va bene Ci sono due, due, due Pompa Ma io direi di andare di pompa Allora, vai Pompa No, morto È overpower il pompa Ma avevo shotto tutti a qualsiasi distanza Oh, ho fatto One shot double kill Va di pompa Va di pompa Facilissima Sembra un livello parecchio interessante Ma io direi che lo proviamo alla prossima volta Ma la prossima volta Dipende se vi è piaciuto il gioco E se vi interessano questi video In tal caso Fatemelo sapere con un bel like Iscrivendovi e condividendo il video Nel caso vi piaccia Così lo riporterò e andrò avanti Perché comunque Anche se è parecchio frustrante Vi sto a riportarlo Vi dobbiamo vedere se vi piace Se vi va a voi Quindi ragazzi Lasciate like Iscrivetevi e condividete E noi siamo al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti